Si fingevano clienti interessati alla merce, si aggiravano quindi tra gli scaffali, toglievano le placche antitaccheggio, rubavano i prodotti ed infine si allontanavano indisturbati, un modus operandi tanto semplice quanto collaudato che la banda aveva messo in atto in alcuni centri commerciali di tutta la Toscana. Ad interrompere la lunga scia di furti sono stati i poliziotti del commissariato di Montevarchi che hanno individuato e denunciato tre cittadini di origine peruviana. I tre sono stati rintracciati dopo l'ennesimo furto messo a segno al negozio Ronix di Montevarchi. Con sé la banda aveva ancora la borsa schermata con un foglio di alluminio e un magnete utilizzato per sbloccare le placche antitaccheggio. Gli agenti hanno poi trovato anche sette etichette di noti marchi di abbigliamento con ancora il cordoncino attaccato. Grazie ai codici a barre riportati gli agenti hanno poi scoperto che risultavano abbinati ai capi di abbigliamento appartenenti ad un negozio di viareggio non più presenti sugli scaffali e non venduti regolarmente. Sempre grazie ad un accurato lavoro di indagine i poliziotti hanno poi accertato che la banda aveva messo a segno anche un altro colpo al punto vendita euronics del centro commerciale I Gelsi di Sinalunga. I tre con numerosi precedenti specifici per reati contro il patrimonio e già sottoposti all'obbligo di permanenza presso la loro abitazione solo nelle ore notturne sono stati adesso gravati anche dall'obbligo di dimora nel comune di residenza, da quello quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria e dal divieto di ritorno nel comune di Montevarchi per tre anni.